Approvata la legge sui dirigenti della Giunta, per rispettare le osservazioni della Corte dei Conti, i direttori della struttura operativa della Giunta regionale saranno collocati di nuovo nella dotazione organica. Aiuti ai minori orfani dei morti sul lavoro, un'iniziativa della Lega per un contributo economico regionale a favore dei ragazzi rimasti orfani di morti sul lavoro. Educare gli studenti alla legalità, un progetto finanziato con il mancato indennizzo ai consiglieri regionali durante il lockdown. Ben trovati, nuovo appuntamento con Monitor Regione, la nostra trasmissione dedicata ai lavori del Consiglio regionale. Iniziamo con le nomine. Per rispettare le osservazioni della Corte dei Conti ci sono delle novità che riguardano la legge regionale 2009 che è stata approvata dal Consiglio della Toscana e che va a modificare la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta. Il risultato che si è raggiunto in Consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario, per le modalità con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della prima Commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo ricepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del Direttore generale e del Segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono il ricepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in prima Commissione e poi anche in Aula e questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti che possono guidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica come corretto che sia perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività, un periodo di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Quindi ci sono elementi positivi, noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli che sono poi il cuore principale della modifica legislativa venisse poi approvata. Quindi rivendichiamo con forza il nostro ruolo e quindi rivendichiamo che la politica può appropriarsi di una squadra propria nel momento in cui molte volte la burocrazia o le funzioni tecniche sono dei limiti alle azioni anche legislative e di relazioni con i cittadini, allo sviluppo delle imprese per rispondere alle esigenze dei toscani. Noi non abbiamo partecipato al voto, non abbiamo partecipato al voto in quanto siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che, nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti, è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in Commissione attraverso una serie di tappe, di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in aula. Quindi come dire, una partita interna, vedremo se poi il ruolo delle Commissioni, che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Bugliani, sarà e sarà mantenuto al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta, oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi, ripeto, a un ulteriore scontro al quale noi come opposizione sicuramente ci apprestiamo ad assistere. Ci occupiamo adesso di solidarietà, un contributo economico regionale a favore dei minori orfani e dei morti sul lavoro. Sarà pari a 300 euro, una proposta di un contributo mensile per ogni genitore deceduto. Lo prevede appunto una proposta dal titolo Mai Soli, presentata dal gruppo della Lega in Consiglio regionale. Noi abbiamo pensato, anche dopo tanti fatti purtroppo accaduti in Toscana, di persone che sono decedute sul luogo di lavoro, di dare un contributo, di aiutare i figli di queste persone che si ritrovano senza un genitore e che comunque purtroppo a volte anche senza entrambi, come abbiamo visto nel caso di Luana Dorazio. Abbiamo pensato a questo contributo di 300 euro fino al compimento della maggiore età, un contributo che deve essere erogato ovviamente ai bambini che sono residenti in Toscana e che hanno perso il genitore mentre stava lavorando e che deve essere dato a chi ha ovviamente un'ISE inferiore ai 40.000 euro. Questo per consentire a questi bambini, a questi ragazzi di poter avere delle possibilità e quindi alla Regione anche di farsi carico dei propri ragazzi, del futuro di questa Regione. Noi pensiamo che sia qualcosa di socialmente utile e indispensabile anche per andare ad aiutare tutte quelle situazioni che sappiamo in un momento già difficile si possono creare se il genitore rimane da solo e vogliamo dare un aiuto, una prospettiva futura a tutti i bambini che ne hanno la necessità. Quindi noi abbiamo fatto questa proposta di legge che vogliamo portare in approvazione, speriamo il prima possibile, proprio per dare un futuro a questi bambini e dare un sostegno reale e concreto alle famiglie. La Toscana è una Regione che da sempre si dice essere accogliente e socialmente disponibile ad aiutare gli ultimi e noi crediamo di dover partire proprio da quello che sarà il futuro della nostra Regione, dai bambini e dalle loro famiglie. Bambini che hanno perso un genitore sul luogo di lavoro, quindi la Regione si sostituisce anche un po' nell'aiuto ai loro familiari durante tutto il percorso della vita. Noi sappiamo che c'è già un contributo che viene dato alle famiglie quando un genitore viene a mancare, ma è un contributo una tantum. Noi invece lo vogliamo dare anche stanziale e che sia rivolto alla figura del minore. Che vite avrà questo processo? Ovviamente noi l'abbiamo protocollata, dovrà andare in commissione per il parere di legittimità, dovrà essere discusso. Noi vogliamo cercare di raggiungere un risultato per tutti questi ragazzi piccoli toscani che saranno il futuro della nostra Regione e speriamo che tutte le forze politiche si aggiungano a noi proprio per dare un segnale di vicinanza e di aiuto concreto, non solo a parole, a tutte quelle famiglie che ne hanno bisogno. Quanti sono i soldi preventivati? I soldi preventivati ovviamente sono variabili, varieranno da anno a anno a seconda delle casistiche che speriamo siano sempre meno e ovviamente verranno anche considerati, come si diceva prima, sul reddito Ise per cui dovrà essere fatto uno studio approfondito dagli uffici della Regione ma noi contiamo che sia fattibile e possibile perché secondo noi è una priorità cercare di dare sostegno a chi ha bisogno di aiuto soprattutto se si parla di bambini e di persone che sono già di per sé fragili e vulnerabili. Certo, deve essere ovviamente messo in campo da subito per tutti quei ragazzi che ad oggi non hanno ancora 18 anni e che si sono trovati in questa bruttissima situazione perché ovviamente un genitore nessuno lo può dare indietro però possiamo porgere una mano e dare un'aiuto a questi ragazzi per guardare al futuro. Strettamente legato alla vostra proposta di legge c'è anche il tema dei controlli della sicurezza sul lavoro sulle aziende toscane, cosa si può fare su quel fronte? I protocolli della Regione già ci sono, ovviamente vanno implementati dobbiamo fare in modo che ci siano sempre meno morti sul luogo di lavoro magari anche incentivando i controlli per arrivare alla totale sicurezza di chi lavora nelle nostre aziende e arrivare ovviamente a garantire un futuro in una famiglia completa a tutti quei bambini che purtroppo oggi come abbiamo visto molti di loro sono stati privati perché il genitore è venuto a mancare su un incidente sul luogo di lavoro. I problemi della sanità, mancano 200 medici di urgenza e quindi a causa della grave carenza di personale medico nella disciplina di medicina e chirurgia e accettazione le aziende sanitarie si trovano in difficoltà per questo e per tanti altri problemi l'assessore alla sanità Simone Bezzine ha esposto i problemi in Consiglio regionale per superare questo impasse e riavvicinare i cittadini alla sanità c'è anche chi propone un ritorno alle USL provinciali. Dalla riforma sanitaria del 2015 hanno iniziato a emergere tanti problemi era stata fatta per migliorare il servizio ai cittadini e soprattutto per ridurre i costi della sanità in Toscana invece è avvenuto propriamente l'opposto i cittadini oggi non si sentono più vicini al sistema sanitario toscano con le tre aslone e in ultimo è venuto fuori che i medici dei reparti dovranno sostituirsi ai medici dei pronto soccorso per carenza di personale ogni reparto è sguarnito appunto di professori e di dottori crediamo che il Covid sia solamente stato un amplificatore del problema ma che il problema venga da molto lontano e presenteremo appunto nelle prossime ore una mozione dove chiede che partendo dalla ASL Toscana Sud-Est che è l'area più vasta di tutta la nostra regione vengano ripristinate le USL provinciali come progetti pilota per far sì che si possa fare un passo indietro rispetto alle decisioni prese in precedenza e vedere se con le risorse adeguate, gli investimenti adeguati anche infrastrutturali e nuove energie nel reclutare medici adeguati alle richieste appunto delle strutture se la sanità toscana potrà effettivamente tornare a dare un servizio adeguato ai cittadini Ci occupiamo adesso di mafie con un progetto finanziato con il mancato indennizzo ai consiglieri durante il lockdown dovrebbe favorire l'educazione alla legalità dei giovani con somme derivanti appunto da questi rimborsi 75 mila euro come ha spiegato il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo Sono felice ed orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità una mia proposta condivisa con tutte le forze politiche utilizzare i rimborsi derivanti dal periodo del lockdown dei consiglieri regionali e metterli a disposizione di un grande progetto culturale contro le infiltrazioni mafiose lo abbiamo voluto con forza è un modo per aiutare i ragazzi e le ragazze a collaborare insieme a noi per ergere un muro contro le infiltrazioni mafiose un progetto culturale che vogliamo portare nelle scuole della Toscana un modo per vaccinare le ragazze e i ragazzi toscani a creare un argine contro le infiltrazioni mafiose tutto questo lo abbiamo voluto insieme a tutte le forze politiche e questo è un risultato importante e vogliamo costruire questo grande progetto insieme alle scuole e alle associazioni che operano sul territorio toscano La cifra è 75 mila euro che noi metteremo a disposizione attraverso un bando a tutte quelle associazioni che si sono occupate della lotta alla mafia, alla criminalità organizzata in questi anni Chiudiamo con i problemi della viabilità la difficile estate sulle principali arterie toscane in particolare i problemi sul nodo fiorentino problemi che riguardano naturalmente il trasporto e di conseguenza anche il turismo il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Torselli chiede che il presidente Gianni riferisca in consiglio regionale nella seduta del 28 luglio Un'estate molto difficile da due punti di vista quello trasportistico perché la Firenze-Siena la Siena-Grosseto e la Firenze-Pisa-Livorno sono tre strade che non sono degne di essere chiamate tali in un paese civile Noi chiediamo, l'abbiamo chiesto per adesso a livello di stampa attraverso i canali di informazione lo chiederemo anche in via ufficiale che entro il 28 di luglio il giorno in cui il consiglio regionale andrà in ferie il presidente Gianni venga in aula a relazionare su quello che sarà il futuro di queste tre strade Entro il 28 di luglio Gianni ci deve spiegare che agosto attenderà i viaggiatori, gli automobilisti, gli autotrasportatori i residenti toscani lungo queste tre strade Dicevo due problematiche perché una legata ai trasporti e una legata al turismo perché non ci dimentichiamo che queste tre strade la Firenze-Siena, la Siena-Grosseto e la Firenze-Pisa-Livorno sono le tre strade principali, i tre assi viari principali che collegano Firenze e la Toscana centrale con la costa quindi noi facciamo da una parte appelli su appelli ai toscani affinché rimangano in Toscana durante le vacanze affinché vivano il turismo regionale e non vadano via dalla Toscana per rilanciare un settore, quello turistico che è stato massacrato negli ultimi 18 mesi ad oggi, numeri alla mano guardando i tempi dell'alta velocità e dei voli un fiorentino impiega meno tempo ad andare a Ibiza che non a Castiglioncello se questo vi sembra normale nel 2021 serve una spiegazione qualcuno dovrà spiegarci perché senza dimenticare che abbiamo già stanziato come regione toscana 4 milioni di euro a dicembre per la nascita di questo Strade Toscane S.P.A. la società che avrebbe dovuto gestire le strade della Toscana stanziamento che è finito nel nulla perché si sente parlare di tempistiche di un anno, due anni prima di vedere gli effetti quindi evidentemente qualcosa è andato storto o pretendiamo di sapere da Gianni cosa è tutto anche per questo appuntamento con Monitor Regione i fatti e i lavori del Consiglio regionale della Toscana grazie per averci seguito un buon proseguimento in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti